1, 2, 3, prova. I carabinieri della compagnia di Rivoli hanno arrestato un quarantenne per rapina. Il provvedimento è scaturito a seguito delle indagini avviate dalla stazione dei carabinieri di Avigliana, circola la rapina consumata la notte del 22 ottobre scorso ai danni di una giovanissima coppia che si accingeva a fare il rifornimento di carburante in una stazione di servizio. Mentre erano a bordo della loro autovettura, due sono stati raggiunti da un uomo armato di coltello che, dopo averli minacciati, si è fatto consegnare 10 euro dai due fidanzatini, che sarebbe servita per effettuare il rifornimento di carburante per tornare a casa. L'uomo si è poi lontanato a piedi, mentre i due fidanzati, rimasti a piedi per non aver potuto effettuare il rifornimento, hanno chiamato i genitori. Quando i carabinieri hanno acquisito la registrazione dell'impianto di videosorveglianza, non hanno avuto dubbi circa l'identità del rapinatore, già noti ai militari, per progressi in situazioni e, dopo aver predisposto un apposito album fotografico, non hanno sottoposto alla visione delle vittime che hanno riconosciuto senza esitazione l'uomo. L'uomo è stato quindi arrestato e portato presso la casa circondariale di Torino.